Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. Sulla 1 panoramica per lavori di pavimentazione stanotte, in orario 21.6 sarà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio, in direzione Roma. Contestualmente chiusi gli svincoli di Pian del Voglio, in entrata in direzione Roma, e di Roncobilaccio, in entrata verso Roma e in uscita, provenendo da Bologna. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, fino al 2 settembre, asfaltatura di via Pistoiese. L'intervento, eseguito in orario notturno, è articolato in quattro fasi, info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!